Io sono, dov'è la mia attenzione? L'attenzione è la più importante risorsa che abbiamo perché in questo momento ce la rubano tutti e tutto. Dobbiamo essere estremamente intenzionali su dove la mettiamo e cosa scegliamo di fare entrare nella nostra vita, quanto tempo decidiamo di dedicare alle cose. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo episodio del podcast di Diar Alice. Vi do il benvenuto anche oggi nel nostro episodio. Spero tutti stia trascorrendo una buona giornata fino a questo momento. quando mi stai ascoltando e come sempre anche oggi andiamo a sviscerare un bel concetto potente che può farci svoltare la giornata. Anzi, cosa dico? Ci può far svoltare la vita se iniziamo a ragionare su questo concetto, se iniziamo a implementarlo nelle nostre vite. Voglio partire da una storia, anzi prima da una provocazione perché sarà un po' tutto il succo di questa puntata. La provocazione è la seguente, dicono che il tempo sia denaro. In realtà con il denaro puoi comprare tempo e dicono che il tempo sia la risorsa più preziosa che abbiamo. Dicono poi che abbiamo tre risorse fondamentali che sono tempo, denaro ed energia e queste sono le cose più importanti che abbiamo. Invece io oggi voglio sfatare questo mito, tra virgolette, mito, insomma chiamiamolo così, perché credo che ci sia qualcosa di ancora più importante, soprattutto di questi tempi. Quindi sicuramente oggi tante cose sono cambiate e c'è una risorsa che non abbiamo menzionato e che è ancora più importante o diciamo più decisiva del tempo, del denaro e dell'energia. E capirete tra pochissimo di che cosa sto parlando. E voglio partire da una storia. Un paio di settimane fa mi sono svegliata una domenica mattina. C'era molto caldo questa domenica mattina e io avevo dormito male. Uno degli effetti collaterali che sto avendo in questa gravidanza è il fatto di non dormire bene. Mi sveglio spesso di notte, non riesco ad andare in sonno profondo. Se ci vado faccio degli incubi, dei sogni che potrei scrivere dei libri di fantascienza. Non vi sto a dire quello che sogno perché faccio fatica io a credere che posso arrivare a sognare degli scenari di questo tipo. Veramente, forse, non lo so, le grandi autrici che hanno scritto, non so, libri o collane come Harry Potter, forse l'hanno fatto quando ero in incinta. Ora non so neanche se J.K. Rowling abbia un figlio. Disclaimer, quindi adesso me lo vado a cercare su Google e vedo che figuraccia ho fatto. Quindi magari non so neanche se abbia dei figli. Però, appunto, di notte dormo male. Va a notti, alcune vanno meglio. Di solito un paio di notti a settimana riesco a essere riposata. Il resto, purtroppo, è così. E ci prendiamo anche questo effetto collaterale. Insomma, fosse solo questo, me lo tengo fino alla fine e va bene così. Mi sono svegliata la mattina e avevo proprio questo senso di ah, oggi è domenica, vorrei essere riposata, avevo il tempo di dormire stamattina, soprattutto prima che i bambini andavano a scuola lontani, quindi dovevo sempre partire al mattino molto presto, alle 7.10, tutti in macchina. La mattina è molto frettolosa, urgente. Non c'è mai veramente tempo di stare un po' a letto, di fare le cose con calma. E niente, quindi mi sono svegliata già con il nervoso addosso. ero arrabbiata, ero frustrata per questa sensazione interna di mancanza di riposo che mi portava giù tantissimo, che mi faceva sentire proprio, sai quel, quando senti voglia di fare niente, nervosismo, statemi tutti lontani, non voglio parlare, non voglio sorridere, non voglio niente. In quel momento mi sono ricordata di una frase che per me è molto cara. Noi siamo dove è la nostra attenzione. Quello che stava accadendo, infatti, è che io stavo ricevendo uno stimolo e lo stimolo veniva dall'interno. Non era la realtà, sì, non ero riposata, ma tutto questo nervosismo era uno stimolo interno e io stavo dando adito attraverso i pensieri, attraverso il nutrimento di questo stimolo al susseguirsi di una serie di eventi della giornata. La mia energia era molto bassa, non avevo voglia di preparare la colazione come di solito faccio la domenica, quindi mi stavo precludendo un momento particolare, particolarmente bello della domenica. Non avevo voglia di uscire, quindi non avevo voglia di fare niente quella mattina. Quindi ho iniziato a vedere un po' dall'esterno, fare l'osservatore esterno, e ho detto, è vero, siamo dove è la nostra attenzione. In questo momento io sto dando estrema attenzione al mio stato d'animo, che può esistere per ragione o meno, però di sicuro io non posso cambiare la notte che ho appena passato, sto dando adito a questo stato emotivo e questo mi sta portando non solo a vivere uno stato emotivo, che va anche bene, ma a far seguire una serie di cose, cioè le mie azioni, come sto spendendo il mio tempo e anche come mi sto sentendo a livello energetico. Quindi quel particolare momento mi ha fatto pensare ancora più in profondità a quello che stava succedendo. Infatti mi sono detta, posso scegliere, posso scegliere di continuare a nutrire, a dare attenzione a questo stato d'animo, oppure posso scegliere di spostare la mia attenzione. Fuori c'è una bella giornata, si sta ancora bene da poter andare a fare una passeggiata nella natura, e così ho fatto. Quindi mi sono sforzata di uscire, andare con i bambini, focalizzarmi su altro, stare nel flusso con i bambini, andare nel bosco che c'è vicino a casa nostra, e lo stato d'animo piano piano si è dissolto. Allora le mie azioni, diciamo, hanno seguito esattamente dove io ho mosso e ho portato la mia attenzione. Ed è stato un momento dove ho formalizzato tante cose che adesso porto in questo podcast. Come puoi aver capito, la risorsa più importante non è il tempo, non è il denaro, non è l'energia, ma è l'attenzione. Oggi, 2024, quando sto registrando questo podcast, ma, insomma, negli ultimi anni e negli anni probabilmente a venire, il nostro grado di attenzione, ciò a cui diamo attenzione, ha un impatto enorme su come noi spendiamo il nostro tempo, anche i nostri soldi, quindi anche il denaro, e su come noi ci sentiamo energicamente. L'attenzione è tutto. Siamo esseri selettivi, quindi di natura, non possiamo captare tutte le informazioni, tutte le emozioni, tutti i trigger, tutte le sensazioni che esistono intorno a noi su base quotidiana, quindi siamo selettivi e le scelte che facciamo, più o meno consapevolmente di dove mettere la nostra attenzione, hanno un impatto totale sulla qualità della nostra vita. Dicono tutti, infatti, che dobbiamo imparare a gestire il nostro tempo. Chi è magari più avanzato nelle tecniche di time management ti dice che devi gestire la tua energia, ma quello che veramente devi fare per migliorare la qualità della tua vita è imparare a gestire la tua attenzione. Perché questo è tutto. Perché se tu ci pensi, il modo in cui noi diamo attenzione ad un determinato stimolo, che sia esterno o che sia interno, è tutto. Cioè è l'innesco per le nostre azioni, per i nostri pensieri, per il nostro stato emotivo, per le nostre azioni e per quello che noi andiamo a costruire su base quotidiana, su base mensile, sulla base della nostra vita. E anche quelle che sono le credenze che andiamo a costruire, quelle che sono le percezioni che andiamo a costruire. Quindi, ad esempio, tantissime persone si lamentano che non hanno tempo, tantissime persone si lamentano che sono di fretta, tantissime persone si lamentano di non avere un momento, di avere una vita stressante, di avere questo senso di urgenza, di fretta, di correre sempre. Ce l'avete presente? Ecco, io ce l'ho ben presente questa cosa. Quando poi magari si va a fare un lavoro di valutazione del come si spende il proprio tempo, vedi che in fondo, forse, siamo la generazione e quella prima di me, cioè quella dopo di me, ancora di più, che non ha mai avuto così tanto tempo, così tanto bilanciamento, vita, lavoro, così tante possibilità con lo smart working, con la flessibilità, la settimana corta, tutte queste cose che erano fuori dal mondo se le pensavamo solo fino a qualche tempo fa, il tempo non è la risorsa che ci manca di più. Ma la percezione che noi abbiamo è che il tempo non sia mai abbastanza. Perché? Perché la nostra attenzione, le cose a cui diamo attenzione, creano una realtà distorta. Quindi intanto veniamo assorbiti da troppi stimoli e se noi non limitiamo questi stimoli, la nostra attenzione è costantemente triggerata da mille cose, mille pensieri. Il cellulare ovviamente ha un grande impatto in questo perché immaginate solo tutte le notifiche. Chiunque può arrivare da noi è come se immaginiamo di essere in un ufficio tempi precellulare e sto lavorando. Prima le persone bussavano alla porta oppure prendevano un appuntamento oppure ci dicevano qualcosa quando eravamo in corridoio. Adesso con Slack, con Whatsapp, col cellulare in qualsiasi momento in cui una persona ha un pensiero boh, lo esterna e arriva da noi. Quindi immaginate questo declinato nella vita normale come se nella nostra porta ci fosse qualcuno che entra e esce in continuazione e ci dice tutto quello che pensa. Quindi c'è l'amico che ci racconta della propria vita che prima magari vedevamo solo alla sera a prenderci una birra insieme e ci racconta della sua vita però ci racconta a 10 del mattino perché in quel momento gli è venuto che devi raccontarcelo. C'è la persona che dice ma tu stasera cosa fai? C'è la persona che dice mi devi consegnare questo documento mi è venuto in mente che ieri non hai dato questo e poi arriva l'email e poi tutti gli stimoli interni che sono a volte anche triggerati da tutti questi stimoli esterni. Tutte queste cose che devo fare perché mi hanno detto sui social che devo pulire benissimo la casa però mi hanno detto che di usare la candeggina delicata però io non so come usarla devo trovare un tutorial però devo anche fare benissimo tutto il meal prep perché si può fare bene perché così però devo riarredare la casa perché guarda ho visto quella quella rivista perché adesso costa poco perché mi è arrivata la pubblicità di mobili arredamento complementi d'arredo che ha lo sconto continuo 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 e se tu non hai una minima cura di come gestire la tua attenzione sei finito il tempo non basterà mai perché in quel tempo non stai traendo niente e c'è un concetto voglio arrivare a questo concetto del tempo che per me è fondamentale io sono una grande sostenitrice del comprare tempo perché il tempo è una risorsa limitata noi abbiamo 24 ore in un giorno tutti ce l'hanno chiunque quindi nel mondo ogni essere umano ogni essere vivente ha 24 ore in un giorno quindi il tempo è fisso chiaramente quello che noi possiamo fare e io sono una grande sostenitrice di questo comprare tempo a fronte di altre risorse cioè denaro ad esempio in questo senso io mi compro del tempo per me quello è la voce spending numero uno della mia vita dove posso io compro indietro del tempo però ho scoperto che poi non è così banale la cosa e l'ho scoperto in azienda non l'ho scoperto nella mia vita poi ho scoperto che la stessa dinamica la portavo nella mia vita privata l'ho scoperto in azienda perché ho assunto una marea di persone e mi sono accorta che non mi ero liberata tempo quindi è stato molto interessante questo cioè quello che riuscivo a fare prima da sola poi con 15 persone riuscivo a fare le stesse cose c'era qualcosa che non andava non riuscivo a sentirmi di aver liberato tempo è stato interessante perché quando tu ti liberi tempo devi anche aver la cura o quando tu hai tempo anche se non te lo devi liberare devi aver la cura di sapere come riempire questo tempo e lì ci vuole consapevolezza è solo che tu vai nelle stesse abitudini perché io ho assunto 15 persone e non mi sono liberata a tempo in parte magari è un problema di delega ho fatto un episodio qualche settimana fa quindi vallo vallo a ascoltare ma in parte è che le mie abitudini lavorative erano quelle e per riuscire a dare attenzione ad altre cose di altro valore della mia azienda dovevo consciamente scegliere di spostare l'attenzione da una cosa all'altra se io prima dicevo per riuscire a far andare avanti l'azienda io devo dare attenzione ad A, B e C quando io ho assunto qualcuno non è automatico il fatto che io smetta di dare attenzione a A, B e C perché è tutto quello che conosco devo imparare a dire devo spostare la mia attenzione a D e F e questa cosa non mi viene naturale quindi questa dinamica mi è stata molto più chiara in azienda perché in azienda ho detto caspita sto spendendo un botto di soldi per questa gente e io non so non sto facendo nessun passo io Alice cioè non mi sono liberata a tempo e lì mi sono accorta sto facendo le stesse cose che facevo prima il rework degli altri perché magari non ho delegato bene perché magari sto continuando a tenermi delle cose perché non le ho spiegate bene alle altre persone quindi pian piano ho capito che dovevo mettermi a fare D e F e ogni volta oggi che assumiamo qualcuno sono certa che io devo liberarmi del tempo avere un piano di come shiftare muovere la mia attenzione verso nuove cose e quindi nel momento in cui delego io devo essere in grado di portare la mia attenzione da un'altra parte se no non stiamo producendo valore poi ho capito che nella mia vita era la stessa cosa ed è molto interessante perché tu corri 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 poi ti accorgi che il tempo ce l'avevi ma l'hai usato male ed è questo il concetto che a me piace perché se il tempo è fisso posso solo scegliere come usarlo e la scelta di come utilizzarlo ha a che vedere principalmente con il concetto di attenzione dove io sposto la mia attenzione è dove io sono io sono dove è la mia attenzione se io mi lascio triggerare da ogni notifica interna o esterna per esempio il malessere del mattino perché ho dormito male il collega che dice abc la notifica di slack la notifica dei miei amici del gruppo che alle 10 del mattino decidono di dire tutto quello che gli passa per la testa l'uso del mio tempo emula e simula questa mia attenzione cioè non ho attenzione in niente attenzione in tutto attenzione in niente e allora ci dimentichiamo le cose non siamo più in grado di focalizzarci non siamo più in grado di portare dei task a termine non siamo più in grado di leggere un libro e tutte queste cose qua se io invece do attenzione solamente a cose negative inizio a pensare negativo se io do attenzione solo a una cosa specifica quella cosa specifica diventa la mia realtà quindi non è tanto il tempo che ho ma è come lo spendo in termini di attenzione anche perché l'energia quindi in termini di energia sì ma l'energia da cosa deriva di nuovo dall'attenzione ma anche il denaro da cosa deriva dall'attenzione perché se io sono in grado di focalizzarmi di studiare di fare il mio meglio di produrre bene quasi sicuramente guadagno di più in un certo modo in un certo senso o così arrivo a guadagnare di più quindi è interessante come tempo denaro energia poi alla fine siamo così riconducibili all'attenzione e allora noi cosa possiamo fare a livello pratico a livello pratico dobbiamo guidare la nostra attenzione dobbiamo proteggere la nostra attenzione dobbiamo imparare a capire quali sono le cose che danno valore perché io posso dire devo imparare dieci tecniche per non procrastinare ma se la mia attenzione è frammentata se non ho uno scopo se non riesco a concentrarmi su una cosa quelle dieci tecniche sono inutili perché mi manca l'attenzione per poter fare quindi passo da una cosa all'altra non ho un metodo non ho testa per farle le cose e ci vuole una grande autodisciplina e anche una grande consapevolezza perché parte proprio dal dire dov'è la mia attenzione io vi sfido a fare un diario mi ricordo che l'avevo imparato da Sandro Formica lui diceva fai un diario e ogni ora allo scoccare dell'ora hai una sveglia che scrive i pensieri che stai avendo ok in quell'ora dopo una settimana due settimane rileggili quindi avrai se sveglio 12-13 pensieri ma anche di più 15 pensieri al giorno sei sveglio 15 ore 15 pensieri al giorno pian piano li rileggi e tu vedrai che porti l'attenzione sempre alle stesse cose che sono le cose a cui dai attenzione in automatico se non scegli di portare l'attenzione a un'altra parte per poter cambiare non è tanto come gestisci il tempo non è tanto come gestisci il denaro ma è in primis come gestisci il tuo livello di attenzione come rispondi a uno stimolo interno come rispondi a uno stimolo esterno è un po' come avere un armadio se vogliamo fare una metafora e questo armadio è pieno di vestiti ed è pieno di cianfrusaglie ed è pieno di cose vecchie ed è pieno di cose che non ci stanno bene ed è pieno di cose che non utilizziamo mai però sono lì e ci pesano perché tutte le volte che entriamo nell'armadio ci sentiamo appesantiti noi stessi dalle nostre cose ecco iniziare a prendersi cura della propria attenzione è assimilabile a un vero e proprio sgombero come se fosse lo sgombero di una stanza lo sgombero di un armadio dove con cura scelgo cosa tenere e scelgo cosa lasciare andare e ogni qual volta mi rientra qualcosa in quell'armadio che non appartiene io con gentilezza me lo piego e decido di lasciarlo andare perché non appartiene lì più tra l'altro vuoi una vita significativa più vuoi arrivare dove vuoi arrivare più devi proteggere la tua attenzione devi proteggerla alla sera prima di andare a dormire con quello che guardi devi proteggerla con quello che leggi devi proteggerla con le conversazioni che hai non tutto è dovuto se tu ti senti che a pranzo sei dentro una conversazione sempre di gossip che ti mette ansia o la gente parla di politica e tu non hai voglia di parlarne perché non ti dà niente stare lì a criticare questi quattro personaggi che fanno sempre parlare di sé tu puoi dire è una mia scelta vado a farmi una passeggiata non è dovuto che io stia lì sono scelte imparare a scegliere a farsi un po' forza e dire ma chi me lo fa fare cioè non è dovuto io mi posso alzare da una conversazione io non devo leggere la cronaca tutti i giorni io non devo fare sì che tutto entri nella mia testa quando gli altri decidono che entri nella mia testa e allora strumenti che riducono le notifiche strumenti che mettono in silenzio strumenti che ci permettono di avere dei flussi strumenti oppure momenti dove scegliamo di stare semplicemente dove siamo senza tutto il resto ecco cosa fa la differenza notatelo iniziate a notarlo iniziate a fare il vostro decluttering iniziate a fare il vostro sgombero dell'armadio dell'armadio delle emozioni dell'armadio dell'attenzione dove la state mettendo dove ve la stanno risucchiando dove ve la stanno rubando è peggio rubare l'attenzione che soldi perché è peggio l'attenzione è la più importante risorsa che abbiamo perché in questo momento ce la rubano tutti e tutto dobbiamo essere estremamente intenzionali su dove la mettiamo e cosa scegliamo di fare entrare nella nostra vita quanto tempo decidiamo di dedicare alle cose come decidiamo di approcciare ad un determinato task ve la lascio come sfida come sfida di pensiero ma anche nel fare quindi questo podcast è iniziato con una storia la storia della domenica mattina e quella storia mi ha fatto capire che in quella domenica non era il tempo che mi mancava che spesso nella mia vita non è il riposo che mi manca ma è quella calma interiore di quando sono io a guidare dove metto la mia attenzione quando riesco a essere così intenzionale da guidare e scegliere i pensieri scegliere le conversazioni le persone scegliere come gestire appunto tutti gli stimoli più mi rendo conto che la mia vita è serena che il riposo c'è che di tempo ce n'è abbastanza invece finché lascio che tutto sia senza regole lascio che non sia prettamente guidato da me ecco che la mia vita inizia a essere come quell'armadio appesantito che sta per scoppiare che non ne può più e che non mi rappresenta quando sentite che gestite l'attenzione è come avere un armadio che vi rappresenta nei colori nelle forme dove ogni vestito è lì perché ci deve essere e non perché è a caso quindi riprendiamo in mano la nostra vita ancora prima di gestire il tempo ancora prima di gestire l'energia gestendo la nostra attenzione fatemi sapere cosa ne pensate di questo concetto fatemi sapere se voi usate delle tecniche per gestire la vostra attenzione oppure se tutto semplicemente accade come sempre potete taggarmi in una storia su Instagram Alices Lifestyle o mandarmi un messaggino privato su Instagram vi leggo sempre volentierissimo e è sempre uno scambio nutriente con voi io vi lascio alla nostra prossima puntata e vi auguro una splendida giornata serata nottata in base a dove siete ciao a presto a presto